Banco Smart Sportello Bancomat con schermo completo touchscreen che impara a conoscerti. Prelievo veloce Gli importi che abitualmente prelevi compaiono subito quando inserisci la carta. Servizio di pagamento georeferenziato Le opzioni di pagamento sono elaborate in base alla posizione dello sportello Bancomat, in modo che tu riesca sempre a trovare ciò che stai cercando. Contenuto delineato Il contenuto dell'homescreen è incentrato sui profili bancari, pertanto le pubblicità e le offerte sono personalizzate, anche per i clienti di altre banche. Il bacino di utenza Tutti utilizzano lo sportello Bancomat. Uno schermo touchscreen completo consente l'accesso a persone con ridotta capacità visiva, persone con diversi livelli di conoscenza informatica e utenti non italiani. Convolgimento degli utenti L'usabilità si consolida nei valori, nei comportamenti e nelle abitudini degli utenti. Per questo, mentre progettavamo, abbiamo incontrato persone reali, le abbiamo intervistate per strada e abbiamo condotto sondaggi via email e workshop. Il processo Lo sportello Bancomat, BancoSmart, è utente centrico. Per crearlo, abbiamo utilizzato metodi di design partecipativo, interveste contestuali, shadowing, attività di car sorting e test di usabilità. L'impatto Ottimi risultati E' un incisivo ritorno di investimenti per la banca. Errori inferiori all'1% dall'introduzione, prelievo più veloce del 30%, maggiore apprezzamento del servizio, migliore usabilità, è stato pioniera in Italia e integra molti venditori di software e di hardware. E' un incisivo ritorno di investimenti per la banca.